Una rievocazione della consegna del decreto di nomina pontificia a Pietro Damorrone e la sua santificazione si terrà a Sulmona a meredì 30 agosto prossimo alle ore 21 e 30 nello splendido cortile dell'Annunziata. La rappresentazione è organizzata dal Borgo Pacentrano di Sulmona in collaborazione con Spazio Arte dell'Aquila e dell'Associazione Recta Rupers di Popoli. Si tratta della decima edizione della rievocazione in epigrafia rinnovata in occasione del settecentesimo anno della santificazione di Celestino V. La manifestazione è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa. Presente il capitano del Borgo, Avvocato Raffaello De Angelis e gli altri dirigenti dell'Associazione. Come si presenta la manifestazione di quest'anno? Rispecchia la manifestazione delle precedenti edizioni, che siamo al decimo anno tra l'altro quest'anno, quindi grosso modo quella è la struttura. Quest'anno abbiamo una particolarità sostanzialmente di questo colloquio ulteriore della canonizzazione di Fra Pietro Damorrone. Poi chi verrà a vedere la manifestazione apprezzerà eventualmente l'esito della stessa. Abbiamo degli attori professionisti che collaborano e ci danno una mano già dalle precedenti edizioni. Sceneziatrice dell'opera è la docente aquilana Stefania Di Carlo, scrittrice, giornalista e studiosa di Celestino. I ruoli chiavi saranno interpretati dagli stessi attori professionisti della precedente edizione. Antonio Rampino, Tino Catena, Lorenzo Calabrò, Pietro Peccatini. Reciterà anche il capitano del Borgo, Raffaello De Angelis. Quest'anno si darà particolare risalto al momento della santificazione di Pietro Damorrone, che avvenne in tempi rapidi, come ha precisato Luigi Di Cesare, ex capitano del Borgo Pacentrano e storico dell'Associazione. Quest'anno, che ricorre i 700 anni della santificazione di Frappiero Damorrone a Sandro, noi cercheremo di rappresentare nella seconda parte della nostra rievocazione proprio un colloquio fra Clemente Quinto e il Cardinale Arnù, che era il Cardinale più vicino a questo Papa. loro ci spiegheranno quali sono state le motivazioni che hanno portato poi alla santificazione così velocemente di Frappiero Damorrone, in un periodo in cui i processi di santificazione duravano dei secoli. Quindi avremo la possibilità di sapere quali erano stati i miracoli presi in considerazione in quel periodo dalla Commissione. Sono stati tanti poi. Sono stati tanti, sono stati contati più di 200. Poi ne furono presi solo 49, perché ci stavano troppe testimonianze, gli altri erano parecchi ancora da rivedere. Comunque per l'epoca avere queste testimonianze viventi in quel periodo, quindi ci stavano dei testimoni che ancora vivevano e tutti erano contenti di dare il loro apporto quando venivano interpellati dal collegio del Vaticano che si occupava della santificazione. Quindi noi cercheremo quest'anno almeno di rappresentare questa parte. L'anno prossimo, che saranno pure i 700, praticamente quasi 800 anni della nomina di Frappiero da Morrone a Papa, probabilmente avremo un copione ancora più ampio e cercheremo di rappresentarlo, se non sottoleremo, perché no, anche qui.